Due sorelle aspettano due gemelli dallo stesso uomo e partoriscono lo stesso giorno. Sherissi e Annie sono due sorelle che vivono negli Stati Uniti e che hanno avuto il privilegio di condividere l'esperienza di essere madri nel modo più insolito. Annie è felicemente sposata con Joby Junston, ma sfortunatamente non sono riusciti a concepire un bambino per quanto ci provassero. Per cinque anni hanno subito tutti i tipi di trattamenti, interventi chirurgici e inseminazioni in vitro senza successo. Fu allora che Sherissi, essendo un esempio dell'amore che una sorella può provare, si offrì di essere la madre surrogata o la surrogata del bambino tanto desiderato. Quando la coppia ha deciso di prendersi una pausa da tutte le procedure per diventare genitori ha deciso che era ora di accettare la controversa proposta. Sherissi è la sorella maggiore di Annie e la madre di due bellissimi bambini che volevano solo vedere la sua famiglia felice. Indipendentemente da ciò che implicava portare i suoi nipoti dentro di sé. Entrambe le sorelle sono andate in una clinica per la fertilità dove sono stati collocati due embrioni ciascuna. Sebbene volessero con tutto il cuore concepire un bambino, le possibilità che ciò accadesse erano scarse. Tuttavia, nonostante tutte le probabilità contrarie, in pochi giorni le suore ricevettero una felice notizia. Erano entrambe incinte. Ma questa non era l'unica sorpresa, anzi, ognuno si aspettava due graziosi bambini. Avrebbero due gemelli. Nella data del 34 grado compleanno di Annie, sia lei che Sherissi hanno scattato una foto che mostrava la sua pancia a 36 settimane di gravidanza con la quale hanno reso nota al mondo la loro insolita storia. Per quanto io sia entusiasta di compiere 34 anni, sono ancora più entusiasta di aver raggiunto le 36 settimane oggi. Ecco la nostra foto 10 10 delle pance dei bambini, ha scritto Annie. Quando finalmente è arrivato il tanto atteso giorno della nascita, entrambe le sorelle sono andate in ospedale con il padre dei bambini e hanno vissuto insieme la più bella esperienza d'amore. Mia sorella ha partolito per prima in modo che io potessi essere lì quando sono nati i due bellissimi bambini. Due ore dopo, alle 9.30, avevo le bambine, ha detto la madre felice. I genitori non potrebbero essere più felici dell'arrivo dei loro amati figli e Annie era profondamente grata a sua sorella per averla aiutata a realizzare il suo sogno più grande. L'amore di queste sorelle ha permesso la nascita degli adorabili Charles, Thomas, Grace e Adlai, dimostrando che la maternità surrogata può essere la migliore alternativa per le coppie che non hanno potuto essere genitori. Non c'è niente di impossibile con l'amore e il sostegno della famiglia, condividi il gesto di solidarietà di queste suore, e suore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.